Ok Google! Google merdaccia! Portami a casa! E cosa deve andare a fare? Ora vabbè, perché ho fissato dopo di andare a fare un massaggio con questa happy ending con questa cinese... Vuoi pubblicare su Facebook che stai andando a farti un massaggio all'happy ending? No, no, no! Ok, pubblicazione in corso! No, no! Proseguivi innanzi per un chilometro! Adesso sarà a diritto, io vado a diritto eh! Attenzione! Caduta Massi! Ma se non c'è il monte qui... Massi è un mio amico, Massimiliano, è caduto! Mi dispiace ma io... Tamponare la macchina di innanzi! No, ora, ora no eh! Ogni anno sulle strade muoiano migliaia e migliaia di persone! Tu potresti essere il prossimo! Lei è cameroso! Vai piano! Al prossimo barre, fermati! Ma perché? Io non c'ho da andare! Ma io sì, c'ho sete! Prosegui per questa strada fino ai poggio innanzi! Ma che poggio? Prosegui fino ai poggio più in giù! Fai un sorpasso azzardato! No, no, io sono prudente alla guida, non lo voglio fare mia! Sorpassare prima di ponte! Ma come? Hai sbagliato strada! No, tu hai sbagliato sempre! Fare inversione A-O! A-O? Fare inversione A-O! Ma no, ma no, a-O! Così! Scendere e proseguire a piedi! Ma... Scendere e proseguire a piedi! Ma va bene via! Ma bella questa fava! Io ci sono a vedere a piedi! Ma bella via 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 via!